Una nuova tragedia colpisce l'Agrigentino. Dopo la spaventosa esplosione, forse in seguito a una fuga di metano, che l'11 dicembre scorso ha causato nove morti a Ravanusa, oltre al bimbo che era in grembo a una delle vittime, questa volta è stato un incendio a causare la morte di una bambina di appena due anni e mezzo. Si chiamava Ginevra Manganello, la piccola vittima dell'incendio che ha devastato una palazzina del centro storico di Palma di Montechiaro. La bimba dormiva nel suo lettino quando è stata sorpresa dal rogo che le ha tolto la vita. I genitori salvati dai vigili del fuoco e forze dell'ordine nella serata di ieri, martedì 21 dicembre, hanno cercato di rientrare nella struttura in fiamme per salvare la bambina. Ma le fiamme avevano già avvolto l'intero edificio. Per Ginevra purtroppo non c'è stato nulla da fare. Sono salvi invece i suoi cinque fratellini. Alla base del rogo, sempre secondo le prime valutazioni, ci sarebbe un problema elettrico dovuto a una stufa. Ma le cause saranno appurate nel corso dell'inchiesta che è stata aperta dalla Procura della Repubblica di Agrigento. In via San Giuseppe è arrivata ieri la polizia scientifica per i primi rilievi. Oggi è arrivato il nucleo investigativo antincendio dei vigili del fuoco di Palermo per fare chiarezza sulle cause della tragedia. Il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, ha deciso di cancellare tutti gli eventi natalizi in segno di vicinanza. La famiglia della piccola Ginevra viveva in condizioni di estrema indigenza. I funerali della bambina saranno pagati dal comune. Il sindaco ha annunciato il lutto cittadino per quel giorno. La famiglia è stata ospitata in un alloggio grazie all'impegno delle forze dell'ordine del sindaco di Palma di Montechiaro. Per tutta la notte, proprio durante le operazioni di soccorso, un cagnolino ha cercato di entrare nella struttura in fiamme. Secondo i residenti si tratta di Stella, un cucciolo con il quale la piccola Ginevra è la solita giocare. A fare da sottofondo a tutte le operazioni di spegnimento del rogo e messa in sicurezza della zona, solo il pianto del cane e il dolore dei familiari e dei residenti di quel quartiere dimenticato.